Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Electric, oggi siamo su Mario Kart 8 e Master of 64, ok ragazzi iniziamo con Mario Kart 8, dobbiamo fare il trofeo, sguscio, grand shipping, 150 pg, l'altra volta come ho sblocato, metto Mario, allora ragazzi, allora, l'altra volta, per i quattro tornei precedenti, l'ho detto se ti devi vedere, ci eravamo presi, ci eravamo presi Mario, Luigi, che poi è uscito il pod, bevi Luigi e bevi Mario, quindi non inizieremo, continueremo con, con, non mettere Mario, no, facciamo il trofeo, guscio, cupa, trofeo, guscio, cupa, trofeo, guscio, cupa, trofeo, guscio, cupa, oh, va bene, siamo pronti, ok, i primi quattro li abbiamo fatti, facciamo trofeo, guscio, no, con, eh, boh, vabbè, se ne frega, se ne fica, se ne fica, tone fica, toni, bravo, no, ah, finalmente, ma ci è scettato una cosa, questa, questa è della Wii, Mario, 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 tanto io salto, carriera, è velocissimo, cupa, cupa, tipo Nibi, parla qui, tu, Todd, come si usano gli oggetti, con LZL, vabbè, lo uso con, la pastiera, con B, con B si utilizza, con B si lanciano gli oggetti a fondo, ah, non è come mancato, dove vuoi fare la penata, non è come mancato, no, non si vuoi, con la flaccetta in giù si utilizzano, si, quello che vuoi fare la penata, vuoi, 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 scusa o andiamo avanti, credo, vuoi, la stessa cosa di fare la penata, vado, ho sganciato le bocche, mamma mia, vuoi, e poi c'è il Dume la ambita, muori, muori, muori e muori! ah, mi fa a fallire, intanto, non le c***o che di Rosalinda, ma la c***o che di Rosalinda, ma qui è cariissimo che di Rosalinda, eh, la la, siamo primi, STELLATIME, guarda ragazzi, che lotta però, eh, primo, secondo e tuo quarto, vabbè, se vuoi ci metterà il secondo è meglio, però puoi giocare molto bene. grazie! no no è vero, non è che... è una partita sono abbassata un centone, quando gioco la mia attenzione aumenta meglio di quando sei a scuola secondo me mi ho buttato una... mi ho buttato una... a me! non me ne prendi a una sega ma non è a me, dove è? oh, oh, oh! ma c'è una trompata! prego! non lo dite tutti! oh, Alfonso terzo! Lorenzo sesto! oh, io terzo! io sesto! ah! almeno lei è felice infatti basta che è felice e lei è felice che tanto è felice è bello ahahahahahahahahahahaha oow che dovunque sia siamo belli comunque adesso facciamo il circuito di maleca-tra ma è calda adesso facciamo il circuito di maleca-tra advance quanto vuol dire amleh? Ma non è buono dire qua dentro, perché è carino, mi asci nel film Super Mario Grosso. Sì, è così ciccioso. Acquino quelli. Non so se vi ci vedo, ma giovedì fai con la recensione del film di Super Mario Grosso. Giù che non avete visto Super Mario Grosso, ma... Sì, è così, un po' sotto. Con tutto? Non sono alcuni dei scriviti. Come avevo le scriviti? E' un super di soggetto. Se conosci già il film di Super Mario Grosso, potessi anche non perdere il suo super di soggetto. Non so se non ci vedo. Non so se non ci vedo. Non so se non ci vedo. Smiere! Morite! Tutti quanti! E Tofi, mi sono io, youtuber per te. Sei un fanto. Ma come fai il nome a vedere subito come questo? Non vedete? A vedere subito come questi, Tofi. Non so se non ci vedo. Sì, è vero. si vuole si vuole intervacevo corti con una scorciatoia emozionante ragazzi vai utilizzo vai 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 un po' fatto ma ti superavo pure il dicesimo stavo dietro joshifat siamo seguiti ragazzi no che cazzo momenti salienti ma cosa no prossima cosa non c'è fatto un cazzo nei momenti salienti che saranno con la scena che non saranno quelli dell'ascensore se lo siano con i momenti scendenti ma questo è bellissimo ma no, tu dai es because because es di cross fai cross con il cusci è che tu sai molto bene ragazzi bloccate tipo timido ragazzi bloccate tipo timido perchè è primo è primo ragazzi bloccate tutto il cibo però se sei in sesto, qualcuno di voi mi butta la... esatto, quindi... chiedo... perché anche il gioco è possibile in un genacchio o in un uomo fuck fuck ah no no non puoi sapere non sono stato io uaaaaaaa non sono stato io ho paura che te li misci il giro ho il tutto come il genacchio del tutto il senso allora misciti di lazzo bravo eh Lorenzo non ti preoccupare sono di più di te magari poi ce lo prendiamo insieme questo... nooo nooo eh Lorenzo mi spiace ho fatto più forte di te vabbè ma cacciatate lo farei primo e infatti fa primo dico anche che sono sicuro troppo bello Lemmy mamma mia lo vorresti sposare? si provo la palla lo scusa una schweb 32 siamo a seconda siamo primi la patata siamo primi eh prossima cosa coupa time coupa time coupa time ma ma com'è dura di una ma... un tempo e... due secondi per questo video come... sono 10 minuti stiamo si comunque adesso stiamo sull'autostrada di Toddy di Mario Kart 64 come mai? Wii no c'è ha scritto 64 ah ok è stato fatto sia 64 Wii e Mario Kart 8 addirittura mamma mia questo è un... anche Mario Kart 8 no 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 questo è un circuito retro quindi è ovvio che appaia su questo retro retro che significa? di cambio i circuiti devono essere un po' i circuiti di altro gioco di Mario Kart 8 eh allora tutti i circuiti dovrebbero accadere in altri circuiti no? no perchè ci sono circuiti di... va un gioco si allora anche alcuni... allora anche alcuni... allora anche alcuni scenari di Super Smash Bros gli scenari che mi trovi no è vero? che... punto no forse noi ci prendiamo tutti e due Super Smash Bros forse si ecco si e per la Wii 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 di formaggio piccante, se non capisci, pisci, ok? Vieni qui, cazzo. Vi prego, per favore, ero io. Alfonso, lo sai? Da ora ti credi? Don't guess, signor, qui in terra, quando sono in un'unica capito, è stato un'immagine di proprio un giro di città. Sì, 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 sì. Giusto. Ok, ok. Dai, ragazzi. Sopprima, raga, raga, è bella, sopprima. Yoshi, Bane. L'ho fatto, no. Ti piace. Quinti Lorenzo Bravissimo va bene Comunque abbiamo detto la pappa Ancora Ancora Ma a parte il 5 per la forza Quanto di funzionare lo scioglio? Forza Fighetta Oh Giulietto il fosso Hai un personaggio eh? Si credi si E trofeo banana Brocco nuovo personaggio E nuovo timbro Che personaggio abbiamo bloccato? No Sei il figlio di Miley Cyrus Sei il figlio di Miley Cyrus Ahahahahah One player Io non ho Miley Cyrus è bella È in più sono bella Che abbiamo sbloccato? Rosalinda Rosalinda Che pappa Abbiamo preso la gnocca Abbiamo preso la gnocca Abbiamo preso gli gnocchi I gnocchi I gnocchi a sugo Mamma mia Sì Hai ragione che vuoi fare così però Soprattutto su un ozzo Questa è chiamabile Vediamo il prossimo trofeo Quali percorsi ha? Desertico deserto Pianura ciambella 3 Pista reale E giungla Donkey Kong Il prossimo ragazzi Naturalmente Se è il trofeo banana Utilizzeremo Donkey Kong Naturalmente Oddio Vabbè ragazzi Mi ha subito durato proprio Poco 15 minuti Per fare un trofeo Devo spegnere la Wii Iiii 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 Allora ragazzi Grazie tante perché siamo arrivati alla quinta parte E come detto nello scorso episodio Nel scorso video Vorrei almeno arrivare a Mario Kart 8 Almeno a 20 parti Facendo tra i trofei Speculari Alfonso Vogliamo giocare in Donkey Kong Comunque ragazzi Allora Parliamo in animalesco Tricheco Cane Rana Delfino Gorilla Leone In questo sarebbero Mettete un mi piace Commentate E naturalmente Iscrivetevi al canale Un saluto Allora Iscrivetevi anche al mio canale Al suo canale Al suo canale E al nostro terzo canale Che abbiamo creato da poco Secondo canale Già stiamo andando abbastanza bene Infatti credo che venerdì forse faremo anche un nuovo episodio Sì Di un unico episodio anzi possiamo dire Della recensione di un film molto carino Che sarebbe il live action di Super Mario Bros Quindi ragazzi Ci sarà da divertirsi tantissimo quest'estate Partendo da oggi Diciamo che siamo stati più divertenti Quindi ragazzi Grazie a tutti Saluto da Mr Electric Uno da Super Smashing Uno da Master A64 E uno da tutti Ciao Ciao Ciao